Mese di ottobre, mese abbastanza caldo per quanto riguarda il lancio dei nuovi processori, lo sapevamo, abbiamo visto proprio qualche giorno fa i nuovi processori Intel che sono stati rilasciati ufficialmente, che tra poco arriveranno anche sugli scaffali e sul mercato per essere acquistati quelli che erano attesi anche per ottobre erano i nuovi processori, cioè sono i nuovi processori 9000X3D di AMD e in particolare il 9800X3D perché come sapete è uno dei processori più attesi per quanto riguarda il mondo del gaming e sono venute fuori delle indiscrezioni, delle informazioni che diciamo in qualche modo ci fanno capire un po' quale saranno l'andamento soprattutto delle performance ma prima di iniziare a parlare del video e entrare nel dettaglio, due cose, la prima iscrivetevi al canale, mi date una grossa mano ragazzi, iscrivendovi al canale magari lasciate un bel like se vi fa piacere e questo video è sponsorizzato da UKIES che trovate in descrizione, che cos'è UKIES? È una piattaforma affidabile per l'acquisto di chiavi di Windows e non solo infatti grazie al codice sconto mio personale MHD su UKIES potete acquistare ad esempio Windows 10 Home ad un prezzo veramente interessante di appena 10-12 euro e potete tranquillamente poi andare ad aggiornare Windows 11 tramite l'app update oppure potete acquistare direttamente versioni Home o Pro di Windows 11 e perché no dei pacchetti software come Office 2016 Professional Plus o Office 2019 che comunque vi vengono a costare relativamente meno rispetto all'Office 365 sempre grazie al mio codice sconto MHD, acquistare è semplicissimo e basta inserire il prodotto nel carrello andare ad applicare il codice sconto MHD in fase di checkout e la chiave vi arriva direttamente sul vostro account prendete la chiave, la inserite nell'apposita sezione dedicata all'attivazione ed il gioco è fatto, quindi trovate tutti i link a UKIES giù in descrizione che cosa praticamente è successo per farvela breve? È successo che durante una visita in una diciamo catena in una fabbrica MSI per quanto riguarda le schede matri, una visita da parte di alcuni media, un tour guidato sono state mostrate, forse per errore, forse non si sa per quale motivo, delle slide o comunque dei test fatti sul 9000 X3D sia probabilmente 16 core e quindi il top di gamma, diciamo di punta 9950 X3D che sulla versione da 8 core che non sappiamo di preciso ma possiamo immaginare si tratti del 9800 X3D ebbene questi slide sono state letteralmente poi fotografate da qualcuno quindi quelle che vedete che sono state poi pubblicate su vari siti diciamo da hardware lux sono delle vere e proprie foto che qualcuno ha fatto durante questo tour guidato ok in questa fabbrica di schede MSI e ovviamente abbiamo già un'idea almeno di quelle che stando al MSI e OSI Lab siano le performance dei futuri X3D e sono delle performance che sinceramente non sono nulla di speciale secondo me da quelle che erano le performance dei 7000 X3D quindi ci sono dei riferimenti soprattutto per quanto riguarda Cinebench per le performance in single core e anche in multi core per esempio in una delle prime slide si vede come il futuro 9950 X3D viene in qualche modo paragonato allo stesso processore ma senza la 3DV cache e su Cinebench in single core si parla veramente di una differenza che potrebbe essere tenuta in considerazione come errore perché si parla dello 0.2% e allo stesso modo viene comparato il 9700 X con l'8 core X3D quindi il 9800 X3D e in questo caso l'unico reale vantaggio sembrerebbe un minimo in multi core dove l'X3D ha un putteggio leggermente superiore quello che però a mio avviso è più interessante è il paragone cioè il confronto secondo MSI proprio sul 7800 X3D contro il 9800 X3D in ambito gaming è vero che da queste slide vengono presi in considerazione appena 3 giochi quindi ragazzi non sono delle slide che possono essere considerate come risultato finale magari di una media di più giochi cioè sono appena 3 giochi però ci fanno capire come in realtà il 9800 X3D sia abbondantemente sotto diciamo un 10% di media di performance in più quindi è vero che su Far Cry io qua vedo un più 10% 13% scusate però stiamo parlando anche di un processore in 1080p con una 4090 che fa il più 13% su un in solo gioco mentre sugli altri siamo appena ad una differenza del 2% che permettetemi può tranquillamente rientrare voglio dire in un range di errore perché siamo meno del 3% voglio dire che non c'è quasi differenza e la stessa cosa tenendo in considerazione il 7950 X3D contro il 9000 X3D da 16 corri quindi il 9950 X3D che non sono propriamente i processori top per il gaming per quanto riguarda AMD vi ricordo che il problema della 3dv cache sul CCX va ad impattare cioè essendo processori questi che hanno un doppio CCX quindi sono due CCX con 8 core l'uno la 3dv cache e su un solo CCX si crea diciamo una sorta di latenza, un core latency che può andare ad influenzare le performance in gaming e infatti il 7800 X3D come d'altronde il 9800 X3D va più forte bene allora questi risultati seppur parziali e seppur non possono essere tenuti in considerazione per un giudizio finale comunque ci fanno tranquillamente riflettere sul fatto che anche in questo caso anche con i 9000 X3D questi processori hanno poco senso e hanno soprattutto poco appeal non siamo secondo me nella condizione di Intel ve lo dico subito perché qui parliamo dei processori che sono dei refresh su una piattaforma che già è uscita sul mercato parliamo di processori che vanno semplicemente se così possiamo dire a sostituire i vecchi processori nel caso del 9800 X3D è un qualcosa che però ci va a quel servizio per il semplice fatto che questo è un processore che arriverà probabilmente a 500 euro e oltre e fino a pochi mesi fa noi avevamo il 7800 X3D che ne costava 150 euro in meno perciò io nel video precedente vi ho scritto a caratteri cubitali addio al 7800 X3D perché quel processore diventerà sempre più introvabile poi le persone mi vengano a scrivere che io faccio dei titoli clickbait che io poi qualsiasi cosa di parlo addio è morto e questo fa schifo no è realmente nelle ultime settimane con l'uscita del 9800 X3D quanto più vedo che in realtà le performance non sono poi così eccezionali rispetto al precedente io so perfettamente che da questo momento in poi AMD farà di tutto per togliere da mezzo il 7800 X3D cioè verrà letteralmente tolto di mezzo il 7800 X3D non lo troverete più e quei processori che troverete in giro che saranno da qui a Natale dei diciamo delle rimanenti di magazzino voi li troverete a dei prezzi assurdi e per me fondamentalmente quest'anno lato CPU devo dire la verità sono in generale un po' deluso in che senso non è semplice allora io non sono una persona che tira sentenze o comunque cioè a cui piace fare del sensazionalismo però da AMD probabilmente più me lo aspettavo siccome è l'azienda che in questo momento soprattutto lato gaming e soprattutto lato piattaforme è quella che si trova un po' più in vantaggio ok è quella un po' più avanti con i sui processori io posso in qualche modo aspettarmi che tirino fuori una generazione di refresh diciamo alquanto inutile ma che comunque voglio dire mantiene un minimo di performance e ha in linea con i prezzi delle precedenti da Intel io mi aspettavo qualcosina in più in generale quindi è perciò che io vado in escandescenza perché resto non dico deluso ma sì ci resto male quando vedo che per l'ennesima volta c'è AMD continua a cacciare magari dei processori che rispetto ai precedenti non hanno nulla di che è invece Intel fatica anche ad arrivare alle performance in gaming di processori della passata generazione infatti stiamo parlando il 7800 X3D che non è minimamente avvicinabile come performance in questo momento da Intel e un'ulteriore riflessione faccio insieme a voi perché noi vediamo che comunque le differenze tra processori top di gamma gen to gen non sono delle differenze eccezionali però quando si parla di gaming e ragazzi fidatevi perché non è semplice 10% di differenze di prestazioni su un gioco con un top di gamma cioè non è poco cioè significa che per esempio su un gioco che fa normalmente 200 fps con il 7800 X3D si va a guadagnare 20 fps di solo processore su una cpu che già di per sé oggi è la cpu più potente che esiste sul mercato allora è vero che in questo momento i processori sono in generale ok un componente hardware che fatica un po' a sfruttare al cento per cento e a stare dietro il passo tecnologico che hanno invece le schede video su questo io per esempio sono d'accordo e me ne accorgo soprattutto quando quando io vedo oggi dei processori che fanno queste differenze gen to gen con una 4090 e penso che a gennaio o a breve arriveranno mostri come la 5090 e io dico se oggi io c'ho una 4090 che già difficile riuscire a sfruttare al cento per cento determinate situazioni con i processori che ho figuriamoci quando usciranno schede video come la 5090 sul mercato quindi io sono d'accordo che è lato cpu la tecnologia diciamo arranca un pochettino anche perché voglio dire non è semplice soprattutto sul gaming però ricordiamoci anche che stiamo parlando di un processore che di per sé il 7800 x 3d è il processore più veloce in gaming che c'è fare anche un 10 per cento in più andare a tirare voglio dire 10 per cento di performance in gioco stiamo parlando su un processore gen to gen non è proprio una cosa scontatissima qui io non penso che siamo minimamente nell'ordine del 10 per cento perché se fosse intorno al 10 per cento male proprio non sarebbe però io penso che siamo abbondantemente sotto infatti qui dice stando a quello al titolo si parla dal 2 al 13 per cento a secondo il gioco io pre prevedo uno scarso 5 per cento di media secondo me e capite che se 5 per cento c'è il 9800 x 3d è un processore che dico che è una merda ma quasi rispetto al 7800 in base soprattutto al prezzo c'è ma chi se lo deve comprare se noi avessimo 7800 x 3d disponibili a 350 euro col c***o scusatemi il termine che io mi andrei a comprare un processore come il 9800 x 3d per un 5 per cento in più e spendere oltre 150 euro di differenza cioè capite qual è il punto fondamentale quindi in questo caso AMD ha giocato in maniera preventiva c'è andata a togliere il top di gamma dalla circolazione e in questo modo che cosa succederà succederà che costringerà le persone che vogliono farsi un pc entusiast o verticale per il gaming con la cpu più potente sul mercato li costringerà ad andarsi a prendere il 9800 x 3d perché se si tratti 50 euro di differenza è ovvio che io a quel punto mi piglio il 9800 x 3d che magari ha qualche un po' di frequenza in più capite qual è il discorso comunque in generale a 360 gradi questo mese alla fine si è rivelato un mese abbastanza pessimo per quanto riguarda le nuove uscite lato cpu parliamoci chiaramente non non spostano il mercato sia gli intel che gli AMD 9000 in generale non sono dei processori che a mio avviso sono interessanti il 9600 x perdonatemi sta scendendo rapidamente di prezzo si trova si inizia a trovare già intorno alle 250 260 euro ed è sintomo del fatto che quando i prezzi calano così drasticamente su AMD è perché AMD non ne sta vendendo mezzo in giro quindi sono stati abbattuti subito i prezzi e forse è l'unico processore realmente interessante che potremmo vedere ma non ne sono certo può essere il 9600 liscio quando lo vedremo se uscirà sul mercato in ogni caso fatemi sapere voi che cosa ne pensate scrivetemi un commento lasciatemi un like e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video ciao ragazzi ciao ciao Grazie a tutti.